A Frank sarebbe piaciuta Venezia se non fosse stato per la folla di turisti e se la città non fosse stata invasa da grosse creature pelose. Tra le file di antichi palazzi e i canali, i marciapiedi erano già troppo stretti per la folla che spintonava e si fermava a scattare foto e i mostri peggioravano le cose. Si aggiravano a testa china, finendo addosso i mortali e fiutando il lastricato. Una delle creature sembrò aver trovato qualcosa di proprio gradimento sull'argine del canale. Mordicchiò e leccò una crepa fra i sassi finché non ne strasse una sorta di radice verdognola. Poi la risucchiò soddisfatta e continuò ad avanzare strascicando le zampe. Beh, mangiano le piante, commentò Frank. Una buona notizia. A meno che non integrino la dieta con i semidei? Hazel fece scivolare una mano nella sua. Speriamo di no. Frank era così contento di tenerla per mano che all'improvviso la folla, il caldo e i mostri non sembrarono più tanto male. Si sentì voluto, utile. Non che Hazel avesse bisogno della sua protezione. Chiunque l'avesse mai vista partire alla carica sulla groppa di Arion con la spada sguainata sapeva che era in grado di badare a se stessa. Però a Frank piaceva lo stesso starle accanto e immaginarsi come la sua guardia del corpo. Se uno di quei mostri avesse provato a farle del male, lui si sarebbe trasformato molto volentieri in un rinoceronte e li avrebbe spinti nel canale. Un rinoceronte? Chissà se ci sarebbe riuscito. Non ci aveva mai provato. Nico si fermò. Laggiù! Avevano imboccato una stradina laterale lasciandosi il canale alle spalle. Di fronte a loro c'era una piazzetta costeggiata da palazzi di cinque piani. L'area era stranamente deserta, come se i mortali potessero percepire che non era un luogo sicuro. Al centro del cortile lastricato, una decina di mostri pelosi si aggirava ai piedi di un vecchio pozzo di pietra coperto di muschio, fiutando intorno. «Quante mucche in un posto solo?» commentò Frank. «Sì, ma guarda!» replicò Nico. «Dopo quell'arco!» Frank socchiuse gli occhi. In fondo alla piazzetta, un arco di pietra con leoni ornamentali conduceva in un vicolo. Oltre l'arco c'era un palazzo dipinto di nero, l'unico edificio nero che Frank avesse visto a Venezia. «La casa nera?» intuì. Hazel gli strinse più forte la mano. «Non mi piace questa piazza. Sembra fredda.» Frank non capiva cosa intendesse dire. Lui stava ancora grondando di sudore. Ma Nico annuì. Studiò le finestre del palazzo, la maggior parte delle quali era chiusa con imposte di legno. «Hai ragione, Hazel. Il quartiere è pieno di lemuri.» «Lemuri?» domandò Frank, nervoso. «Non ti riferisci a quelle bestioline del Madagascar, vero?» «Spiriti arrabbiati», chiarì il figlio di Ade. «I lemuri risalgono all'epoca romana. Vagano per le città italiane, ma non ne ho mai avvertiti così tanti in un posto solo. Mia madre mi ha detto che…» esitò. Mia madre mi raccontava delle storie sui fantasmi di Venezia. Frank tornò a interrogarsi sul passato di Nico, ma aveva paura di fare domande. Poi intercettò lo sguardo di Hazel. «Continua», sembrava dire. «Nico ha bisogno di esercitarsi a parlare con le persone.» Il chiasso di fucili d'assalto e bombe atomiche si fece all'improvviso più forte nella testa di Frank. Marte e Ares stavano cercando di superarsi cantando gli inni di due fazioni avverse. Il ragazzo fece del proprio meglio per metterli a tacere. «Nico, tua madre era italiana?» domandò. «Era di Venezia?» Nico annui con riluttanza. «Conobbe Ade qui, negli anni trenta. Alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, fuggì negli Stati Uniti con me e mia sorella. Cioè, con Bianca, l'altra sorella. Non ricordo molto dell'Italia, ma so ancora parlare l'italiano.» Frank non sapeva cosa dire. «Oh, che bello!» Non sembrava appropriato al momento. Stava andando in giro con un paio di semidei strappati alle grinfie del tempo. Tecnicamente, avevano entrambi almeno settant'anni più di lui. «Deve essere stato difficile per tua madre», disse infine. «Ma si fa qualsiasi cosa per quelli che si amano.» Eise la provò, stringendogli ancora più forte la mano. Nico fissò il lastricato. «Sì», mormorò in tono amaro. «Credo di sì.» Frank non avrebbe saputo dire cosa passava per la testa del figlio di Ade. Faticava a immaginare Nico di Angelo che agiva per amore, se non forse per Hazel. Ma decise di essersi già spinto troppo avanti con le domande personali. «Allora questi Lemuri...» deglutì. «Come li evitiamo?» «Me ne sto già occupando», replicò Nico. «Sto inviando loro il messaggio di tenersi alla larga e di ignorarci. Speriamo che basti. Altrimenti le cose potrebbero mettersi un po' male.» «Muoviamoci», suggerì Hazel. Arrivati a metà della piazza, tutto andò per il verso sbagliato. Ma i fantasmi non c'entravano nulla. Stavano girando il pozzo, cercando di tenersi a debita distanza dai mostri, quando Hazel inciampò su un sanpietrino allentato. Frank l'afferrò al volo. Sei o sette bestioni grigi si voltarono a guardarli. Frank scorse un occhietto verde luccicante sotto una criniera e fu subito investito da un'ondata di nausea, come quando faceva indigestione di formaggio tigerato. Le creature reagirono con versi profondi e intermittenti, come sirene antinebbia inferocite. «Buone, mucchette, buone!» murmurò Frank. Si portò davanti agli amici. «Ragazzi, credo che sia meglio battere in ritirata. Lentamente.» «Che imbranata!» bisbigliò Hazel. «Scusatemi.» «Non è colpa tua!» replicò Nico. «Guardate giù!» Frank abbassò gli occhi e rimase senza fiato. Sotto le sue scarpe, le pietre dell'astricato si muovevano. I viticci di una pianta piena di spine stavano sbucando fra le crepe. Nico fece un passo indietro. I viticci serpeggiarono verso di lui, cercando di seguirlo. Diventavano sempre più grossi, trasudando un vapore verde che odorava di cavolo bollito. «A queste pianticelle piacciono i semi dèi?» osservò Frank. Hazel avvicinò la mano alla spada. «E alle nostre mucche piacciono le pianticelle!» L'intera mandria ormai guardava nella loro direzione, mughiando e pestando gli zoccoli. Frank comprendeva il linguaggio animale a sufficienza per afferrare il concetto «State calpestando il nostro cibo! Perciò siete dei nemici!» Cercò di farsi venire in mente qualcosa. C'erano troppi mostri per combattere. E qualcosa in quegli occhi nascosti sotto le criniere scompigliate? Era bastato un rapido barlume per dargli la nausea. Aveva la brutta sensazione che, se quei mostri ti avessero guardato negli occhi, le cose non si sarebbero limitate al volta stomaco. «Li distraggo io! Voi due andate lentamente verso la casa nera!» disse agli amici. «E non guardateli negli occhi!» Le creature si irrigidirono, pronte ad attaccare. «Come non detto!» esclamò Frank. «Correte!» Frank non era in grado di trasformarsi in un rinoceronte e perse del tempo prezioso nel tentativo di riuscirci. Nico e Hazel si rifugiarono in pochi salti nel vicolo. Frank si portò davanti i mostri mucca, sperando di ottenere tutta la loro attenzione. Urlò a pieni polmoni, immaginandosi come un ferocissimo rinoceronte, ma con arese marte che strillavano dentro la sua testa non riusciva a concentrarsi. Rimase il solito, vecchio Frank. Due dei mostri si staccarono dalla mandria per inseguire Nico e Hazel. «No!» urlò Frank. «Prendete me! Sono io il rinoceronte!» Il resto della mandria lo circondò. Ringhiavano, sbuffando nuvole di gas verde smeraldo dalle narici. Lui arretrò per evitare quella roba, ma il tanfo per poco non lo mise al tappeto. «Eh, va bene, niente rinoceronte. Qualcos'altro, allora!» Frank sapeva di avere solo pochi secondi prima che i mostri lo avvelenassero o lo investissero, ma non riusciva a ragionare. Non riusciva a trattenere l'immagine di un animale, uno qualunque, il tempo sufficiente per cambiare forma. Poi lanciò un'occhiata in alto verso uno dei balconi e vidi una scultura di pietra. Il simbolo di Venezia. Un istante dopo era un leone. Ruggì in tono di sfida e con un balzo atterrò in cima al vecchio pozzo di pietra. I mostri ringhiarono. Tre si lanciarono all'attacco, ma Frank era pronto. I riflessi del leone erano concepiti per la velocità nel combattimento. Ridusse in polvere i primi due mostri con gli artigli, poi affondò le fauci nella gola del terzo e lo scaraventò lontano. Ne restavano sette, più i due che inseguivano Hazel e Nico. Le probabilità di vittoria erano scarse, ma Frank doveva fare in modo che il grosso della mandria restasse concentrato su di lui. Ruggì contro i mostri, che arretrarono un poco. Erano in superiorità numerica, sì, ma lui era un predatore in cima alla catena alimentare. E quelli lo sapevano. E lo avevano appena visto spedire tre di loro nel tartaro. Frank puntò sul vantaggio acquisito e balzò via dal pozzo scoprendo le fauci. La mandria si fece indietro. Se solo fosse riuscito ad aggirarli, poi si sarebbe voltato e sarebbe corso dietro a Nico e Hazel. Se la stava cavando egregiamente, finché non fece il primo passo indietro verso l'arco. Una delle strane creature, la più coraggiosa o la più stupida, lo prese come un segno di debolezza. Caricò e colpì Frank in piena faccia con il gas verde. Lui si vendicò con un'unghiata che ridusse il mostro in polvere, ma ormai il danno era fatto. Si sforzò di non respirare, ma sentì lo stesso la pelliccia ardere sul muso. Gli bruciavano gli occhi. Barcollò lì indietro, mezzo accecato e stordito, appena consapevole di Nico che urlava il suo nome. «Frank! Frank!» Cercò di concentrarsi. Era tornato in forma umana e vomitava inciampando sui propri passi. Aveva la sensazione che la faccia gli si stesse staccando dal cranio. Di fronte a lui fluttuava una nuvola di gas verde che lo separava dalla mandria. I mostri rimasti lo scrutavano con sospetto, forse chiedendosi se avesse altri assi nella manica. Frank si lanciò un'occhiata alle spalle. Sotto l'arco di pietra, Nico di Angelo impugnava la spada di ferro dell'ostige e lo invitava ad affrettarsi. Ai piedi di Nico due pozze di tenebre macchiavano il lastrico. Senza dubbio i resti delle mucche che li avevano inseguiti. Hazel era appoggiata al muro alle spalle del fratello. Non si muoveva. Frank si riscosse, corse dai compagni dimenticandosi della mandria di mostri. Superò Nico e afferrò Hazel per le spalle. «Si è beccata una raffica di gas verde in faccia», spiegò Nico a Franto. «Non sono stato abbastanza veloce». La ragazza aveva la testa a ciondoloni sul petto. Frank non capiva nemmeno se stesse respirando. Si ritrovò ingabbiato in un groviglio di rabbia e disperazione. Aveva sempre avuto paura di Nico. In quel momento avrebbe voluto prenderlo a calci e gettarlo nel canale. Forse non era giusto, ma non gli importava. Ne importava agli dèi che urlavano dentro la sua testa. «Dobbiamo riportarla sulla nave», disse. La mandria di mostri mucca si aggirava con cautela oltre l'arco. Mughiarono il loro urlo da sirene e dalle strade circostanti altri mostri risposero. I rinforzi avrebbero circondato i semidei molto presto. «Non ce la faremo mai a piedi», disse Nico. «Frank, trasformati in aquila gigante! Non preoccuparti per me! Riporta Hazel sul largo due!» Con la faccia in fiamme e le due voci che gli urlavano nel cervello, Frank non era sicuro di riuscire a cambiare forma. Ma stava per provarci quando qualcuno alle loro spalle disse «I vostri amici non possono aiutarvi! Non conoscono la cura!» Il figlio di Marte si voltò. Sulla soglia della casa nera c'era un uomo abbastanza giovane, vestito in jeans e maglietta. Aveva i capelli ricci e neri e un sorriso amichevole, anche se Frank dubitava che lo fosse davvero. Probabilmente non era nemmeno umano. Ma al momento non importava. «Puoi curarla?» gli chiese. «Certo», rispose l'uomo. «Ma è meglio che vi sbrighiate a entrare. Credo che abbiate fatto infuriare ogni catoblepa di Venezia.» «Certo, ti ho fatto infuriare ogni catoblepa